Ciao a tutti, sono Marcello Vicini, l'ideatore del format Fit Moving. Che cos'è il Fit Moving? È semplicissimo, diverse skills, functional training, dance, balance, core training. Imparerai a sviluppare i movimenti del tuo corpo, imparerai a divertirti di più e soprattutto imparerai a fare gruppo. Dove si può fare il Fit Moving? Ovunque. E si può lavorare con qualsiasi tipologia di musica, quindi troverai hip hop, dance, rock, reggaeton e chi più ne ha più ne metta. Siamo semplicemente qui a invitarti a scoprire questo nuovo format. Quindi seguici sulla nostra pagina, richiedici informazioni se vuoi diventare istruttore e ricordati che ti seguiremo sempre. Quindi le nostre formazioni non si limitano ad una giornata ma sarai seguito costantemente. Quindi che dire, che cosa aggiungere. Buon fitness a tutti. Ma vada, ma vada, sulle mani e spinti a casa tutti giù per terra.